Il via libera è arrivato. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato il DPCM che ridisegna finanze e contributi per l'acquisto di nuove vetture. Ora si attende solo la pubblicazione in gazzetta ufficiale, una misura necessaria per sostenere un settore in difficoltà, colpito prima dalla pandemia e poi dalla crisi dei CIP. Di recente invece dal lockdown in Cina e dalle difficoltà nell'approvvigionamento delle componenti a causa della guerra tra Russia e Ucraina. Tutti i fattori che stanno mettendo in crisi l'industria automobilistica. A marzo, stando ai dati diffusi dal Ministero dei Trasporti, le immatricolazioni sono risultate di circa 119.000 unità, in calo del 29,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il declino però è legato anche a una minor fiducia dei consumatori per effetto dell'incertezza macroeconomica, del rincaro delle bollette e dei carburanti, tant'è che sono sempre più lontani anche livelli pre-Covid. Rispetto a marzo 2019 la flessione del 37,9%. In questo momento è molto bloccato anche per il fatto che sono stati messi in circolazione la voce dei prossimi incentivi che dovrebbero essere imminenti. Però il cliente aspetta. È dal primo maggio, almeno per quello che sono informato io, dovrebbero ripartire gli incentivi su queste benedette vetture che abbiano poi, sono tre fasce ben distinte. C'è l'elettrico, l'ibrido e ci sono le vetture poi normali, quelle che hanno fino a 135 grammi di CO, questo è importante. C'è una novità quest'anno che la vettura elettrica o la vettura a combustione devono avere delle fasce di prezzo, non superarle per poter usufruire degli incentivi. Quindi sempre la vettura oltre dieci anni di vita, di proprietà del nucleo familiare, da almeno 12 mesi. Per quanto invece riguarda le vendite di auto a diesel, benzina, elettrica? Allora, il diesel si è fermato molto, anche se con l'ultimo aumento che c'è stato dei carburanti, quello che si è bloccato molto è il metano. Per il fatto che è assurdo quello che è successo, che da un euro al chilo siamo passati fino a 3,50 euro e lì si è fermato. E il metano era l'alternativa al diesel in questi ultimi periodi. Il diesel la gente ha paura, anche perché c'è sempre il discorso che prima o poi si deve smettere di produrre diesel. Con l'elettrico puro ancora non siamo pronti con tutte le colonine che magari richiede il cliente. Va discretamente bene, anzi direi bene, l'ibrido e va bene il GPL. Inoltre, sempre secondo i dati forniti dal Ministero, molti marchi hanno subito un calo drastico delle vendite. Solo pochi vanno in controtendenza. Però soprattutto DR che sta facendo veramente molto molto bene. Pensate solo che in tre mesi abbiamo già fatto il 50% di quello che si è fatto nell'anno solare 2021. I tempi di consegna siamo dal pronto consegna ai 60 giorni, ma soprattutto sono vetture full optional di serie. Non si deve aggiungere niente e perciò arrivi il prezzo è chiaro. Che cosa auspicate per i prossimi mesi? Adesso con il maggio che arriverà ci auguriamo che a parte il sole che maggio ci porta e ci porti il sole anche dentro le concessionarie di rivedere molta più gente che si definiscono queste vendite che al momento sono un po' bloccate. Un prodotto che manca in questo momento è l'usato. L'usato sta andando molto bene, ma non si trova e i prezzi sono saliti tanto. La gente entra poco, aspetta che arrivano gli incentivi. Avremo un nuovo prodotto a breve, sarà la nostra miraglia, sempre 1.5 turbo, benzina GPL, solo con cambio automatico CVT a nove rapporti. C'è già molta attesa, speriamo che ci dia dei risultati molto interessanti. Grazie a tutti.